Ciao a tutti, a Calzeria del Tevere, oggi andiamo ad isolare questo paio di Golden Goose che il cliente ci ha portato devastate, andiamo a sostituire completamente il fascione e a rimettere la suola sotto uguale all'originale e andiamo anche a sistemare questo piccolo problemino laterale. Andiamo a lavorare! Oh no, 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 no. La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lavoro è terminato Abbiamo rimesso a nuovo queste Golden Goose Abbiamo risolate con la suola a lisca di pesce originale Il guardalo è stato scelto dal cliente dove lo aveva bianco liscio Senza sporcarlo E abbiamo sistemato questi due buchi che aveva laterali In modo tale che adesso sono pronti per fare altri chilometri Se vi è piaciuto il video seguitemi E per informazioni e preventivi contattatemi su WhatsApp Ciao, alla prossima